Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica abbiamo la proclamazione delle beatitudini, ovvero della condizione dei figli di Dio, di ciò che il Signore dona a coloro che davvero lo accolgono e lo seguono, la felicità. E non una felicità qualsiasi epidermica, passeggera, ma beatitudine, cioè una condizione di pienezza interiore che non è prodotto umano, ma opera di Dio in un cuore stabilmente radicato in Lui e donato agli altri. Le beatitudini ci ricordano che Dio è felice e rende felici coloro che lo amano e lo seguono, e tutte insieme nella loro paradossale bellezza risplendono sul volto di Cristo. Lui per primo le ha incarnate, le ha vissute e dona di poterle vivere e sperimentare. Noi in questa riflessione ci soffermiamo in particolare sulla prima. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, è la porta di accesso a tutte le altre, in un certo senso le racchiude, le riassume, ed è al presente. Ci parla di qualcosa che già ora Dio ci comunica. Cerchiamo di capire chi è il povero in spirito. Allora, in greco la parola povero è ptokos, che indica il pitocco, il mendicante, colui che non vive se non chiede, se non riceve. Lo spirito invece nella antropologia ebraica indica la dimensione più intima, il nucleo profondo del nostro essere. Dunque, il povero di spirito è il povero di sé, colui che percependo la sua fragilità si presenta davanti a Dio come un mendicante. Il catechismo della chiesa cattolica parla dell'uomo come mendicante di Dio, di Dio che si fa mendicante dell'amore dell'uomo, e la preghiera come luogo di incontro di queste mendicanze. Il povero in spirito è uno dunque che non ripone la fiducia in sé, nelle cose che ha, nelle sue capacità, ma in Dio soltanto. E come vedremo dopo, questo si manifesta anche nelle scelte concrete. Oltre a ciò, se ci rifacessimo al retroterra ebraico del termine anav, povero, potremmo dire che il povero in spirito è la persona umile, dunque all'opposto dell'orgoglioso, del saccente, dell'autosufficiente. E possiamo capire perché è beato. Perché di essi è il regno dei cieli, dice Gesù. Cioè, diciamo così, perché in essi Dio può regnare, Dio trova spazio, può riversare il suo amore nel cuore. E potremmo dire come una tazza. Se la tazza è piena, non puoi versarci nulla. Se invece è vuota, ci puoi mettere qualcosa. Così è il nostro cuore. Se è pieno, se è già sazio, Dio non trova spazio. Viceversa, se il nostro cuore è povero, Dio vi può regnare. Proviamo a declinarla in modo ancora più concreto. Potremmo dire che la povertà in spirito ci chiede di accogliere la nostra povertà e di scegliere la povertà. Cerchiamo di capire. Anzitutto, la povertà in spirito ci chiede di accogliere la nostra povertà. Vedete, noi tutti siamo poveri. Il Papa ci ha detto che in fondo siamo tutti dei poveracci in spirito. Siamo cioè bisognosi. Le cose più importanti non ce le diamo da soli. Basti pensare alla vita, alla vita eterna, all'amore. Siamo fragili, miei cari, e per quanto ci diamo da fare, restiamo vulnerabili e incompleti. Qual è il problema? Che spesso passiamo la vita cercando di dimostrare il contrario, di essere autosufficienti, di mostrarci forti, sicuri, di farcela da noi, di non aver bisogno di nessuno, né di Dio e né tantomeno degli altri. Siamo inabitati da una menzogna latente. Non avere necessità, essere dei piccoli assoluti. E così ecco che facilmente riponiamo la nostra fiducia a quelle cose che ci fanno sentire sicuri. In primis, ad esempio, i beni materiali. Quante volte il benessere materiale allontana da Dio? Perché? Perché ci sentiamo sazi, a posto, sicuri. Oppure riponiamo la nostra fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, nei nostri ragionamenti, anche nelle nostre buone qualità, per cui ci sentiamo a posto, che in fondo Dio non ci serve, o comunque non abbiamo più di tanto bisogno della sua misericordia. Ma questo ci allontana anche dagli altri. Pensate che fatica a volte facciamo ad ammettere di aver bisogno, di chiedere aiuto, o di chiedere perdono se sbagliamo. Ecco, l'orgoglio, la pretesa di non aver mai bisogno di nessuno, dell'uomo che non deve chiedere mai, diceva una pubblicità. La verità, invece, è che tutti siamo limitati. Il Vangelo di oggi ci annunzia una notizia splendida. Possiamo smetterla di nascondere la nostra povertà. Non c'è bisogno di scappare dai nostri limiti, o di deprimerci se li vediamo. Ma possiamo farne luogo di accesso a Dio, porta di ingresso al Regno dei Cieli. Un luogo dove sperimentare la tenerezza di Dio, la sua potenza, la sua opera in noi. Caro fratello, cara sorella, forse in questo momento ti ritrovi a fare i conti con la tua fragilità, a renderti conto che non riesci ad affrontare una situazione, una sofferenza, un limite interiore, che magari hai sbagliato tanto. E tutto questo ti scoraggia, ti abbatte. Vorrei dirti, non aver paura. Fai di quella povertà un luogo di incontro col Signore. Lui è proprio lì che vuole entrare, per ricolmarti del suo amore, perché tu possa sperimentare la potenza della sua misericordia nella tua fragile vita. Sì, proprio lì Dio vuole entrare, per stringerti a sé e tenerti unito a sé. La povertà in spirito, dunque, cari fratelli e sorelle, è la povertà di chi, riconoscendosi bisognoso, confida in Dio e in Dio soltanto, e dunque ne cerca anche la volontà. Il Papa ricordava che questa povertà di spirito è molto legata con la santa indifferenza che proponeva Sant'Ignazio. Lui diceva, per questa ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create, quelle chiaramente lecite, buone, in modo da non desiderare da parte nostra più la salute che la malattia, più la ricchezza che la povertà, più l'onore che il disonore, più la lunga vita piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto. Pensate che bella questa libertà che ti porta a cercare al di sopra di tutto ciò che Dio vuole, cioè il meglio per me. Quanta inquietudine viene dal pretendere che tutto vada come vogliamo noi, che tutto sia come diciamo noi. Povero in spirito è colui che al di sopra di tutto cerca e si abbandona a ciò che Dio vuole. E non solo, è colui che confida sempre e comunque nella sua misericordia e non nei propri meriti. Verete, miei cari, a volte un ostacolo grande alla felicità, alla crescita e l'orgoglio. Tante volte lo scoraggiamento è figlio dell'orgoglio, non accettare una difficoltà, una propria caduta. Colui che invece è povero non si scoraggia, confida nel Signore e se anche riesce in qualcosa rende lode senza insuperbirsi. Quanta libertà c'è qui. Tutto questo dispone il cuore ad accogliere la consolazione dello spirito e la sua dolce presenza in noi. Infine, la povertà di spirito ci chiede di abbracciare e in un certo modo di scegliere anche la povertà. Come ci ha ricordato il Papa, Luca nella sua prospettiva non parla di povertà di spirito, ma di essere poveri e basta, e così invita anche noi a un'esistenza sobria, austera, spoglia. In questo modo ci chiama a condividere la vita dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. E mi piace concludere con una piccola storiella. Si racconta di un'eremita che un giorno raccolse da un fiumiciatolo alcune pietre particolarmente belle. Le voleva usare per ornare un suo piccolo altarino. Mentre ritornava verso il suo eremo incontrò un bisognoso che gli chiese qualcosa e lui gli regalò tutte le pietre che aveva raccolto. Una di queste era anche una piccola pepita d'oro. Questo povero rimase stupito di questo dono e qualche giorno dopo tornò di nuovo dall'eremita. L'eremita lo guardò e gli disse figliolo, ti serve qualche altra pietra? No, gli disse il povero, io vorrei avere il tesoro che tu hai nel tuo cuore, che ti permette di donare così tanto con tanta libertà. Cari fratelli e sorelle, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Felice chi fa della sua povertà un luogo di incontro con Dio e di apertura agli altri. Beato, felice chi accetta il proprio stato di mendicanza verso Dio. Questo lo apre al possesso del più grande dei beni, il regno di Dio, il suo amore in Lui. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.